quanta passione serve per diventare un bravo giardiniere forse serve avere solo il pollice verde o serve la linfa al posto del sangue per avere successo con le piante direi proprio nessuna di queste cose chiunque può fare miracoli in giardino o meglio può assistere a veri miracoli del proprio giardino in questo episodio voglio dirti come esplosa in me questa passione se così si può chiamare ciao sono roberto massai natural garden designer arboricoltore giardiniere ormai da oltre 20 anni questo è giardino futuro il podcast del giardinaggio virtuoso e consapevole che spreme l'essenza del giardino con grande gratitudine e ammirazione senza preconcetti o imposizioni solo il bello che la natura sa offrire a piene mani sentendo un po in giro sul web o di persona molti hanno sviluppato quella che chiamano la passione per la terra e il giardino in tenera età soprattutto grazie all'influsso di nonni o genitori che hanno saputo tramandare certi valori o competenze anche con me ci hanno provato con un risultato tutt'altro che scontato diciamo che per me non ha funzionato o almeno non in prima battuta quando ero piccolo mi piaceva tanto giocare con gli attrezzi di mio babbo sia per scavare per terra sia per costruire cose con i pezzi di legno mi ricordo quando lui era intento a costruire le arnie e i telaini per gli alveari e io assemblavo finti robot con i pezzi di legno di scarto oppure fucilini a elastici fionde carretti e slitte quando magari nevicava insomma già all'epoca delle elementari trafficavo un bel po con le mani e avevo una bella inventiva e progettualità soprattutto poi con i capannini mi ricordo mio cugino mi aveva regalato un manuale delle giovani marmotte una specie di libro degli scout con protagonisti qui qua e qua dove erano illustrati tanti lavoretti da fare è lì che ho imparato a fare i primi nodi con le corde ad assemblare costruzioni fino a costruire in totale autonomia una casetta su un albero bastava mi venisse un'idea che subito era messa in pratica ho avuto pure un periodo che volevo fare la fine di icaro tra un aquilone e l'altro tutti costruiti con canne di bambù e la carta di recupero dell'uovo di pasqua mi venne in mente di costruire un deltaplano e così feci sacrificando dal corredo di mamma ovviamente a sua insaputa un paio di lenzuola una volta assemblato mi lanciai da una vecchia cava di sassi un'altezza di circa sei metri nel sottostante campo che per fortuna era appena stato lavorato che a tutti l'impatto altrimenti mi sarei fatto davvero male tutto questo per dirti che ho passato un'infanzia molto attiva e creativa ma in casa se non per fare le lezioni mangiare e dormire il paese dove abitavo e in una collina immerso tra boschi e campi a contatto con la natura incontaminata dove il suono degli uccelli dei grigli e delle rane prevale di gran lunga su quello delle macchine e delle persone nonostante questo ero avverso alla terra o meglio ai lavori agricoli al contrario di mio fratello che era nato con la zappa in mano e già da bambino passava l'estate intere dai miei nonni in val di chiana ad aiutarli nei campi di frutta e verdura mi ricordo una volta i miei revano portato pure me alla raccolta dei fagioli montalbano freschi da sgranare e la giornata passava piegato in due a seguire quelle interminabili file di piante erano talmente lunghi quei campi di fagioli che sembrava più vicino l'orizzonte della loro fine c'era pure un'altra cosa che detestavo la raccolta delle olive non ho mai capito il perché forse perché mio babbo ne aveva tanti anzi troppi pure gestiti male in posti scomodi tanto che durava più di un mese con i piedi sempre bagnati nell'erba e le mani intirizzite dal freddo per non parlare dei voli fatti dalla scala o le tremende frascate negli occhi che ho preso non capivo proprio cosa ci trovassero gli altri di così entusiasmante all'epoca poi non c'erano gli abbacchiatori e le olive ogni sera venivano stese su quello che era chiamato castello un'impalcatura di legne e canniccia più piani insomma a me i lavori agricoli stavano veramente antipatici e avrei fatto di tutto per non seguire le orme di famiglia così mi sono sempre impegnato molto nello studio e per fortuna non mi è mai risultato neppure troppo difficile l'unica cosa che mi rimaneva veramente pesa era la lettura più che altro perché mi sembrava una gran perdita di tempo per tutto il periodo scolastico penso di non aver mai letto un libro oltre quelli prescritti dai professori allora le mie priorità erano altre e soprattutto fuori non di certo in casa sui libri mi ritrovavo spesso a studiare la sera tardi quando ormai i miei erano a letto e la piccola casa ormai regalava un po di silenzio la mia fortuna era che mi bastava poco per apprendere una prima lettura veloce mentale tanto per sottolineare le cose principali e una seconda lettura del sottolineato stop potevo andare volontario e prendere bei i voti mai preso un'insufficienza in vita mia anzi una sì un 5 6 a dattilografia che mi mandò in crisi tanto da costringere miei a comprare subito una delle prime macchine da scrivere elettroniche come strana la vita di tutta la mia carriera scolastica la materia in cui sono andato peggio e per la quale non ero certo portato la dattilografia è l'unica che tuttora mi fa un gran comodo infatti mi permette di scrivere sul pc di getto mentre penso il discorso riesco a scrivere più veloce di quanto potrei mai fare a mano con la penna chi lo avrebbe mai detto insomma tutto avrei fatto pure studiare come uno sesso pur di non ridurmi alla vita senza orari senza ferie senza tregua che facevano i miei solo dopo ho realizzato che avevano scelto al prezzo della modestia la libertà mio babbo era stato da giovane dipendente in una tenuta di 600 ettari aveva amministrato sette poderi di contadini a mezza adria in qualità di fattore oltre alla mansione insieme a mio nonno di guardiacaccia dell'annessa riserva a quell'epoca il padrone era padrone e di sicuro mio babbo avrà dovuto subire più volte atteggiamenti umilianti non in linea con la sua indole da uccello di bosco finita quella fase della sua vita da dipendente ha fatto qualsiasi cosa pur di non dover più rendere conto a nessuno ed essere libero della propria vita del proprio tempo e così ha fatto fino al suo ultimo giorno in questo devo dire che mi ha trasmesso tanto sul senso di essere padroni del proprio tempo e liberi di decidere del proprio destino insomma della terra non ne volevo proprio sapere il primo contatto diretto che ho avuto è stato grazie all'orto che aveva imbastito mio fratello e poi come era suo solito fare lo aveva un po abbandonato e così mi sono ritrovato ad annaffiare raccogliere provare qualche semina piantare qualche piantina ecco com'è successo come tutti i colpi di fulmine quasi per caso avevo appena 16 anni e da allora per più di 30 non è passato un singolo anno senza che abbia fatto l'orto e non l'orticello da pensionato tanto per passatempo nel giro di pochi anni il mio orto era diventato così grande da essere in grado di sfamare diverse famiglie non ho mai venduto niente del mio orto ho sempre preferito regalare prodotti che non ho mai sentito miei ma piuttosto un dono della terra e io mi sentivo solo un tramite non so perché quel senso di condivisione con parenti e amici mi ha sempre gratificato più del denaro quindi non serve avere una passione nata per la terra o il giardino e l'orto puoi scoprire e innamorarti di questo mondo a qualsiasi età e nei modi più disparati l'importante è avvicinarsi e praticare con leggerezza senza dover dimostrare chissà quale bravura o sentirsi in competizione con gli altri la miglior cosa che puoi coltivare è la connessione con la natura e il reale valore che sa trasmettere io lo ammetto questo senso della vita e delle cose l'ho scoperto tardi quando ormai avevo una famiglia tutta mia non è così scontato è più facile e te lo dico perché è successo pure a me sentire il valore materiale e utilitaristico delle cose stesse piante nonostante lo avessi studiato a scuola non le vedevo come esseri viventi degni di rispetto passare tra i pomodori o le insalate nell'orto era come passare oggi con il carrello al supermercato e buttare dentro certo sapevo che si trattava di alimenti più genuini ed economici ma niente più fino al momento in cui mi sono sposato e sistemato casa correlativo giardino nuovo non avevo mai piantato una singola pianta neppure una comune salvia neppure un frutto solo ortaggi per uso e consumo per me l'ornamentale i giardini erano un mondo inesistente tuttora non saprei dirti cosa o quando sia scattata una passione autentica per il mondo delle piante ornamentali a me piace più che altro avere la conoscenza di quello che faccio sapere di fare bene essere il più sicuro possibile delle azioni che devo compiere per raggiungere un certo obiettivo non credo nella passione tanto per giustificare tentativi fallimentari o inutili perdite di tempo conosco un sacco di giardinieri che si definiscono appassionati del proprio lavoro e magari non hanno letto neanche un singolo libro sul giardinaggio se qualcuno ha l'abbonamento di gardenia lo sfoglia per vedere le immagini è già tanto questo lo definiresti passione invece dal mio punto di vista dopo una parete intera di libri letti la sensazione che prova a documentarmi di continuo nel mondo dei giardini è che più cose apprendo più mi rendo conto di essere ignorante e non tanto io come persona ma come uomo come umano ci consideriamo evoluti grazie alla tecnologia sempre più avanzata e invece su tanti fronti argomenti più la ricerca avanza maggiori sono i dubbi e le cose ancora da appurare quando ho iniziato a fare il giardiniere di professione ho studiato per alcuni anni come un forzennato ero diventato bulimico di informazioni libri corsi convegni se ci fosse stato internet come adesso avrei fuso qualche computer volevo bruciare le tappe sapere di tutto di più alla fine mi sono arreso troppo vasto e immenso il mondo dei giardini si trattava di conoscere la vita nelle forme più disparate e capire come si svolge in una coesistenza continua e interdipendente ho iniziato come tutti fanno dalle piante mi sono riempito pure io la bocca con nomi altisonanti e strani pensando che potesse bastare mi sbagliavo sapere conoscere le piante serve fino a un certo punto non è conoscendo il nome di un essere vivente che puoi dire di conoscerlo nel profondo saperlo capire e poterci interagire quello è solo il primo passo e non il più necessario e non ha senso farlo per tutte già se conosci quelle che nascono spontaneamente nel tuo ambiente di riferimento è già un buon traguardo non ha molto senso scervellarsi con piante che vengono dall'altro capo del mondo o che sono novità frutto di recenti incroci fatti apposta per creare stravaganti rarità dal prezzo alto così ho cominciato a focalizzare sui come ossia le tecniche culturali qui siamo a uno stadio un po più avanzato questo livello puoi trovare un sacco di sedicenti appassionati la potatura è l'argomento un genere più gettonato frutti e rose la fanno da padroni o forse se la giocano con il prato vero crucio di chi ambisce alla competizione con il prato del vicino tipi di sementi prodotti vari altezza e frequenza di taglio irrigazione areggiatura carotatura sabbiatura concimi trattamenti attrezzatura tempistiche programmi di manutenzione un mondo soprattutto per quello che riguarda l'ambito sportivo è a quello che tanti si ispirano ignorando però i costi proibitivi che ciò richiede anche gli alberi non scherzano ma qui siamo a un livello più da professionisti soprattutto arboricoltori oltre la corretta potatura degli alberi è importante conoscere il grado di sicurezza e quindi possibili difetti strutturali o criticità in particolar modo quando a uno dei loro rami attacchi una corda sulla quale sali per accedere alla chioma in tre climbing in pratica ci attacchi la tua stessa vita e fin qui ho studiato sì ma tutti i libri più che altro pratici e con il seno di poi a volte alcuno anche pure discutibile il vero studio che converrebbe fare per capire e vivere appieno il giardino è avvenuto quando ho cominciato a mettere in discussione tante pratiche che iniziavo a considerare insostenibili ho cominciato infatti a chiedermi tanti perché dover motivare una pratica piuttosto di un'altra non solo per l'efficacia ma addirittura se indispensabile o superflua addirittura dannosa non è né banale né immediato ho avuto anch'io un passato in cui somministravo concimi chimici o insetticidi convinto che non si potesse fare a meno e che fosse la pratica migliore da fare addirittura dati a calendario in via preventiva o solo per accontentare il cliente a un certo punto mi sono reso conto che tutto quell'accanimento non portava alcun risultato nel lungo periodo più gli anni passavano e più la situazione degenerava le malattie parassiti aumentavano e si facevano più aggressivi e insistenti i prodotti erano sempre più nocivi e pericolosi e non da poco costosi cominciavano ad esserci troppe incongruenze i costi per i clienti aumentavano così come rischi generali mentre guadagni del lavoro di giardinieri si assottigliava o comunque non riuscivo a stare al passo con i tempi ecco perché ho iniziato a indagare andare a fondo e capire i perché e così grazie pure a internet e una moltitudine di libri ho approfondito un sacco di tematiche interne ed esterne al mondo dei giardini non so quanti giardinieri avrebbero fatto un percorso simile al mio diciamo che ho voluto cambiare approccio e invece di focalizzare sui singoli aspetti e argomenti in modo lineare quasi scientifico ho preferito approcciarmi ai giardini in modo più olistico e circolare per capire il perché di tante pratiche e paradigmi mi sono fatto dalla storia la religione l'arte l'architettura la filosofia la psicologia l'antropologia il marketing la biofilia la medicina la nutrizione la botanica l'ecologia e tante altre materie che pochi giardinieri penserebbero attinenti al mondo dei giardini eppure i giardini hanno accompagnato fin dall'inizio la nostra specie e ne hanno rappresentato o caratterizzato i comportamenti l'uomo ha sempre vissuto grazie alle risorse dell'ambiente e con il suo sfruttamento ne ha definito i connotati contribuendo alla definizione dei paesaggi che scaturiscono dalla mescolanza e convivenza di spazi ancora in mano alla natura e quelli ormai sotto le sue grinfie i giardini si collocano in mezzo nel tentativo dell'uomo di ricreare una natura domesticata a volte piegata al suo volere altre volte più libera e rispettata se mi segui da un po avrai capito quale di questi due approcci approvi di più più lasci libera la natura di esprimersi anche nel tuo giardino maggiore è la probabilità di avere risultati soddisfacenti con il minimo sforzo possibile non dico che debba fare un percorso come il mio spesso consiglio delle letture perché sono quelle piuttoste o trasformanti da un punto di vista mentale e di consapevolezza anche io d'altronde solo in età avanzata ho scoperto la passione e l'importanza della lettura soprattutto per informarmi e fare ricerca se non hai intenzione tempo di dedicarti anche tu a queste letture ti basterà continuare a seguirmi e attingere dai miei contenuti mantenendo però uno spirito critico e libero di non essere d'accordo l'importante è che metti in pratica le tue convinzioni e che alla lunga trovi in un riscontro oggettivo e siano sostenibili se ti accorgi che il gioco non va è la candela che ti sottoponi a rischi inutili che sono più i consumi la fatica la spesa del giovamento e della soddisfazione tua e della tua famiglia allora c'è qualcosa che non quadra e di sicuro da rivedere se già ti trovi in questa condizione e vuoi un parere diretto da parte mia non ti resta che andare sul mio sito e prenotare una consulenza diretta con me che sia un solo incontro all'inizio di un percorso di crescita e formazione sarò ben lieto di mettere a disposizione tutto il mio sapere ed esperienza in relazione al tuo caso specifico in modo da farti ottimizzare qualsiasi risorsa tu sia disposto a investire nel tuo giardino e nel benessere che possa regalarti come ormai saprai a me piace parlare chiaro e diretto senza tanti fronzoli è raro che abbia il tempo di rispondere singolarmente a chi mi scrive ma è importante instaurare relazioni con chi mi segue perché dai commenti e domande trago molti spunti di riflessione e materiale per produrre contenuti magari mi fai una domanda che per te è basilare e mi è stata fatta da tanti altri in passato così invece di risponderti singolarmente cosa che non potrei fare per impossibilità oggettiva posso produrre un video sui social un messaggio su telegram o una diretta sul gruppo o addirittura un episodio come questo così con un unico sforzo riesco a rispondere a tanti e magari ne può beneficiare anche altri in futuro ecco gli unici modi con cui puoi interagire con me fare domande condividere esperienze pareri giudizi dubbi incertezze quello che vuoi se ancora non l'avessi fatto ha solo tre cose da fare iscriverti al gruppo facebook giardino futuro entrare nella mia lista di contatti per ricevere la newsletter settimanale entrare nel canale telegram giardino futuro e mi raccomando interagisci con me con gli altri membri della tribù perché occorre agire e in fretta ricorda il futuro dipende pure da te a cominciare dal tuo giardino vi do appuntamento alla prossima ciao 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 ciao